Grazie a tutti Benvenuti alla trasmissione Il Punto, parleremo dell'attività amministrativa e politica dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, lo faremo in questa puntata insieme a due ospiti, Orfeo Goracci, consigliere regionale comunista Umbro e Massimo Monni del nuovo centrodestra. Grazie per essere qui. La prima domanda è un suggerimento che arriva dall'affermazione del prefetto di Perugia Antonio Repucci che nel corso di una conferenza stampa ha affermato sostanzialmente che se una madre non si accorge che il figlio si droga dovrebbe suicidarsi. Partiamo dal vostro commento su questa affermazione ma anche sulla situazione ci permette di entrare in un contesto molto più vasto sulla sicurezza in Umbria in special modo nel capoluogo Umbro. Partiamo però da questa affermazione che riempie le pagine dei quotidiani. Questa trasmissione è registrata oggi è lunedì 23 giugno quindi i giornali parlano da ieri insomma di questa affermazione con anche la rimozione del prefetto da parte del ministro dell'interno Angelino Alfano. Partiamo da Massimo Monni. Sicuramente la situazione che si è venuta a creare per quanto riguarda le affermazioni del prefetto è una situazione imbarazzante perché un servitore dello Stato quando si esprime dovrebbe stare attento sul linguaggio e soprattutto non solo sul linguaggio ma anche non semplificare la situazione che c'è in questa regione ma soprattutto in questa città del problema della droga. Riteniamo che forse il prefetto pensava che venire a Perugia avendo fatto esperienze su altre città che hanno problematiche diverse ma non specifiche come questa di Perugia la situazione di Perugia per lui era una situazione più diciamo leggera. Invece così non è e ripeto dato che non è la prima volta che il prefetto cerca di sdrammatizzare la situazione perugina ora lo fa anche con fasi un pochino pesanti a effetto diciamo che ha fatto bene il ministro Alfano a prendere questa decisione. Ecco vabbè entriamo nel discorso più vasto della sicurezza adesso su questa affermazione la riflessione di Orfagoracci. Sicuramente quanto ha detto per il ruolo che svolge è di una gravità sconcertante perché fondamentalmente al di là delle intenzioni fra intendimenti questi possono starci sempre ma ci sono modi di esprimersi che possano andare bene alla veia come si dice dalle mie parti nelle battute tra amici. Quando vai a toccare i drammi di decine centinaia probabilmente migliaia di persone occorre rispetto perché io sono convinto quante mamme quante sorelle quante compagne quanti amici hanno pensato dopo aver perso un trentenne un venticinquenne un quarantenne per droga se non era anche il caso di farla finita. Allora che ci debba essere una figura tra le più importanti dello Stato che anziché collaborare con tutti e al meglio per risolvere il problema che ha ragioni diverse vada a fare un'affermazione come quella di colpevolizzare le madri che sono poi i soggetti più deboli da tutti i punti di vista. Allora per quanto riguarda il capoluogo Umbro a Perugia la questione sicurezza ha tenuto banco, tiene banco ormai da anni insomma per il numero altissimo delle morti per overdose ma per anche i comitati che i cittadini stessi mettono in campo. Diciamo che è stato un po' il filo conduttore anche della campagna elettorale che ha portato poi alla vittoria il sindaco di centrodestra a Perugia Andrea Romizzi. Ma qual è la situazione reale lei che vive poi Monni in questa città? La situazione reale rispecchia quello che poi la gente sente girando nella città, vivendo nella città. Perugia ormai da anni è diventato uno spaccio a cielo aperto, non c'è una zona di Perugia che ormai sente da questo problema perché non è vero che è solo il centro storico ma ormai anche le periferie o la prima cinta della città è colpita da questo. Ultimamente ho saputo, è ancora più allarmante, che i spacciatori alla mattina vanno alle fermate degli autobus dove i bambini, i ragazzi vanno a prenderlo per andare a scuola dunque anticipano ancora di più il punto dove andare a smerciare in prima mattinata. Dunque, ripeto, è una situazione pesante che va affrontata in modo drastico, va affrontata anche con un sistema di controllo più globale del territorio coinvolgendo, e questa è una cosa che abbiamo sempre detto, anche le forze della Polizia Municipale che in questa città è prevalentemente deputata da stare dentro agli uffici per notificare le multe invece che andare sul territorio, bisogna affrontare in un modo pesante questa situazione. Guardi, io porto sempre l'esempio e poi mi taccio. Cinque anni fa, un mese prima della campagna elettorale dell'allora candidato a sindaco Boccali l'ultimo atto dell'amministrazione Locchi fu quella di mandare le pattuglie e le vigili urbani all'entrata e all'uscita delle scuole questo l'ha fatto sull'ultimo mese della campagna elettorale per il sindaco Boccali, una volta eletto le pattuglie sono ritornate nei propri uffici, nei propri garage. Dunque, se chi governa questa città non solo ha la responsabilità politica ma prende in giro anche i propri cittadini, perché quando uno fa una cosa del genere vuol dire prendere in giro i propri cittadini cioè vuol dire che le grandi responsabilità in questa città ce l'ha anche chi ha amministrato la città. Devo aggiungere anche che abbiamo avuto la sfortuna per aver avuto nel passato qualche questore che era abbastanza superficiale pensava più forse a organizzare le feste all'interno della caserma di polizia che a organizzare le territorie. Dobbiamo andare da Goracci, quindi lei in un certo qual modo ci dice che Romizzi, questa nuova amministrazione di Perugia interverrà soprattutto attraverso la polizia municipale in certi luoghi della città come le scuole. Guardi, quello che farà il sindaco Romizzi lo deciderà lui perché ha le competenze per farlo siamo ai primi giorni che è stato eletto dunque ancora deve organizzare. Sono convinto che questa cosa che sempre abbiamo portato avanti però il sindaco Romizzi la porta l'attuale... Allora Goracci, la sicurezza Perugia, la sicurezza in Umbria, lei viene da una città dove Gubbio tutto sommato ancora è abbastanza gestibile in questo contesto sociale. Ma io appunto come lei richiamava, vivendo in un'altra città la mia esperienza è un po' diversa. Avendola amministrata per molti anni tra l'altro. Diciamo che le oasi felici non esistono più da nessuna parte, il problema per esempio della droga, dello spaccio, del consumo è abbastanza diffuso più di quanto immaginiamo, coinvolge fasce di popolazione soprattutto giovanili ma non solo come il fenomeno dell'alcolismo ma certo Perugia un po' dipinta, un po' in maniera reale è un luogo conosciuto in Italia come realtà dove è più facile potersi rifornire e questo non ha certo aiutato. Sulle risposte su Romizzi ha vinto anche per questo sicuramente, non penso solo per questo perché i problemi di Perugia, del capoluogo, delle periferie credo che siano diversi. Se penso che quanto costano i parcheggi in una città come questa e di liberi non se ne trovano dico una banalità ma per dire delle molte cose che non hanno funzionato. Io rispetto a quello che diceva il collega Monni non conosco la realtà perugina come lui quindi mi astengo dal dire cose che possono non essere opportune. Mi permetto un solo dubbio, che le forze dell'ordine debbano fare molto, è indubitabile questo però tutti i governi dove ci siete dentro, addirittura con il ministro dell'interno dicono che per la sicurezza mandano gente, rafforzano i presidi e quanto altro poi non cambia granché la realtà. Non penso che da sola anche la possibilità di una pattuglia o due in più della polizia municipale risolverà il problema. Io credo che invece sarebbe un deterrente migliore se in particolare nella zona centrale dell'acropoli vi fosse più vita e per più vita intendo sia quella culturale, sociale, ricreativa, ma anche commerciale, di bar e di residenze. Perché automaticamente quando ci sono centinaia di persone che vivono su quella via con i propri bambini, con l'anziano che va a fare l'estate la passeggiata, diventa automaticamente fenomeno di deterrenza per lo spacciatore e per chi tende comunque a delinquere. Quindi al di là della vostra contrapposizione ampia a livello ideologico, come affrontare il problema al di là della vostra anche stima reciproca che conosco bene, insomma qual è la ricetta di Goraci? In un certo e qual modo lei già l'ha data, no? Questa di far vivere di più il centro storico. Poi sentiamo quella di Mondo. Io credo che se in particolare l'acropoli, ma non solo, perché come ricordava poi si va a cerchi concentrici, ci si avvicina. Però io da ragazzo venivo qui per l'università ormai più di 30 anni fa e fenomeni già ce n'erano, o comunque maggiori rispetto al resto dell'Umbria. Però l'eclatanza degli ultimi 10-15 anni non c'era mai stata. Allora, quello che è mancato dai tempi che io ricordavo è proprio... Prima la vita era tutta al centro, la standa era qui sotto, che era anche il luogo dove andavi quando pioveva o non sapevi cos'altro fare. Tante attività. Ora, le colpe delle amministrazioni, e probabilmente, anzi sicuramente anche quella perugina per quanto mi riguarda, sono quelle di aver portato la vita, la modernità, con tutte le negatività che ha, nelle periferie, lasciando i centri o ai super ricchi speculatori, con qualche ufficio sempre in decadenza anche questi, perché poi è difficile raggiungerli, e non c'è più la vita vera, quella che di fatto connota l'identità. Anche lo studente, ce ne sono a migliaia di meno, erano comunque un fattore di convivenza con il resto della peruginità, che automaticamente si frapponevano come ostacolo al delinquere, poi che fosse stato di livello più basso, medio o quanto altro. Non va dimenticato che poi Perugia ha avuto la sfortuna di essere nelle cronache nazionali e mondiali, per fatti che certamente non gli hanno fatto una pubblicità come magari invece la realtà e come capoluogo dell'Umbria potrebbe meritare. E' estremamente chiara questa ricetta, tra virgolette, di Orfeo Goracci. Sentiamo Massimo Monni. Ma condivido in parte la riflessione che faceva il collega Goracci. Infatti aggiungo anche che se andiamo a analizzare come a Perugia si svolge lo spazio della droga, si svolge proprio sui quartieri dove c'è stato un negrado urbano e dove sono stati fatti i progetti urbanistici che sono stati quelli fallimentari. E dunque ricade sempre la responsabilità di chi ha amministrato questa città. Dove sono le zone calde di Perugia? Dunque a Fontivegge, Piazza del Bacio, che doveva essere il fiore all'occhiello di questa città, è stata fatta un'urbanizzazione dove da una parte sono stati costruiti due palazzi completamente e solo esclusivamente l'ufficio. Nella parte opposta un palazzo composto solo esclusivamente da mini appartamenti, così come in via del Macello, così come sulle altre zone. Quando un quartiere non è vissuto, e su questo sono d'accordo con il collega Goracci, è certo che lei capisce che su una zona tipo quella di Fontivegge dove alle due gli uffici chiudono, gli appartamenti sono tutti mini appartamenti, dunque non ci vivono le famiglie, ci possono vivere solo o studenti o altri residenti. Lei capisce che se non è vissuto il quartiere, lì diventa una zona facilmente raggiungibile e facilmente come un covo dove si può spacciare. Un'altra cosa clamorosamente sbagliata di questa amministrazione è stata quella di trasformare in centro storico tutti i garage e le cantine in appartamenti, fatte per fare delle speculazioni ai soliti amici delle passate amministrazioni che facevano edilizia, dunque trasformando tutti i garage e i fondi in appartamenti, in anche delle situazioni di grossi rischi sanitari, perché quando lei fa andare a vivere dei studenti su dei garage o sulle cantine, lei capisce da solo che cosa è significato. Dunque a mano a mano quei posti sono stati abbandonati dai studenti e presi in mano da altre persone. Lei capisce che il degrado di questa città nasce anche da degli errori clamorosi o anche delle speculazioni edilizie fatte in questi anni. Il controllo a 360 gradi in ogni angolo della città, sia dal punto di vista sociale, ma anche edilizio ed urbanistico, se vogliamo. Entriamo nell'attività dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, della Regione dell'Umbria. Guardiamo dal vostro punto di vista a quest'ultimo anno di legislatura, Goracci. Io sono abbastanza perplesso di come stanno andando le cose, perché nel 2010, quando siamo venuti qui, c'era l'aspirazione, forse anche l'illusione, di fare molto, e almeno dal mio punto di vista, molto anche abbastanza connotato. Non è stato fatto granché. Le riforme che sono state fatte sono state fatte tutte con l'accordo del centro-destra, perché il governo di questa Regione sembra che abbia come obiettivi soltanto quelli che ricalcano un po' le politiche romane, la grande speculazione infrastrutturale, penso ai temi ambientali, penso alla E45, penso alle vertenze anche sul lavoro dove andiamo un po' lenti e debole. Si regge un po' sul sociale, sulla sanità, ma per il resto vedo forti debolezze. Con l'aggiunta che si stanno predisponendo leggi elettorali, figlie delle scelte nazionali, evidentemente questo lo debbo per onestà ricordare, ma che tenderanno a far scomparire le minoranze culturali, politiche e territoriali, e tutto questo non mi sembra un buon viatico per gli scenari che a marzo-aprile del 2015 si porranno. Io credo che se la Presidente non ha un sussulto d'orgoglio e un colpo di reni, come genericamente usiamo dire, i rischi per questo tipo di coalizione ci sono, ma non per i meriti del centrodestra, come penso sia avvenuto per Perugia, ma soprattutto per i demeriti di chi sta governando. Monni, Goracci dice praticamente che molte riforme sono state fatte con l'appoggio del centrodestra a questa amministrazione regionale, lei che risponde? Alcune cose noi siamo orgogliosi di aver appoggiato, anzi essere stati protagonisti di alcune riforme, io ricordo la legge sulla speculazione, anche in parte la riforma sanitaria, ora però voglio aggiungere anche che quelle che per noi erano le grandi speranze, e soprattutto sulla semplificazione, che in questa regione noi abbiamo creduto, abbiamo dato fiducia alla Presidente, alla Giunta di centrosinistra, perché pensavamo che era una delle cose più importanti che noi potevamo fare, dunque l'abbiamo votata, abbiamo portato il nostro contributo, ora siamo profondamente delusi, perché da quella legge che siamo partiti per semplificare, siamo alla fine del mandato e ancora di semplificazione qui non se ne vede assolutamente nulla. Qui sicuramente è più un problema della debolezza della Giunta regionale e dello strapotere, come ho sempre detto, della burocrazia in questa regione. Lei capisce che semplificare significa togliere il potere alla macchina amministrativa e burocratica della regione, dunque a dirigenti e a tutte quelle persone che fino adesso hanno utilizzato il loro ruolo creando dei problemi ai cittadini. Noi quando abbiamo votato la semplificazione eravamo convinti e abbiamo cercato di dare un contributo fattivo, perché pensavamo che la gente, il popolo, quando va sugli uffici pubblici non può entrare dentro l'ufficio con un problema e uscirne con tre. Dunque la semplificazione era proprio dettata da questo spirito, la filosofia di aiutare la gente di entrare negli uffici e risolvere il problema. Questa ad oggi ancora però, abbiamo fatto la legge, l'attuazione di questa legge ancora non c'è, siamo alla fine del mandato e questo significa che la fiducia data alla giunta di centrosinistra per quanto riguarda soprattutto questa legge, ad oggi noi siamo profondamente delusi perché, ripeto, alcuni direttori e alcuni dirigenti hanno bloccato questo iter di semplificazioni per il loro potere. Continuiamo con lei, ha toccato prima un punto, Goracci, che è quello della nuova legge elettorale con la quale si andrà a votare il prossimo anno. Ora per dettato statale si passerà da 30 consiglieri a 20, quindi chiaramente ci vorrà una legge elettorale e nuova e quello che diceva Goracci è la difficoltà per i piccoli partiti, i piccoli movimenti di essere rappresentati all'interno del Consiglio regionale. Come andrà a finire secondo lei Moni? Che legge elettorale prevede, auspica e invece verrà fuori? Guardi, ancora sui tavoli ufficiali non si è discusso di nulla. Ho letto sul giornale che il PD ha fatto, penso, una riunione di partito, dando delle linee guida, ma bisogna dire ai amici e colleghi del PD che non sono i padroni di nulla, sono in maggioranza, però le leggi, per quanto riguarda i regolamenti poi delle partite, si fanno tutti insieme. Ora, quello che noi ci aspettiamo è di fare una legge equa che può rappresentare e dare visibilità a tutti, naturalmente cercando di aggregare e non disaggregare, cioè alzare secondo me un quorum per chi va da solo per premi di maggioranza, dunque per avere il diritto di partecipare e tenere basso il quorum per chi si aggrega, dunque anche per i partiti più piccoli, su questo io penso che sono perfettamente d'accordo con Goracci. Sono personalmente contrario al voto di genere, perché secondo me è offensivo il voto di genere per le donne, perché le donne che valgono non hanno bisogno delle riserve per avere una rappresentanza all'interno di un'amministrazione pubblica o nel privato e da verificare se fare un collegio unico o due collegi. Tutte le due soluzioni hanno pro e contro, perché un collegio unico significa un impegno importante per i candidati e anche una dispersione nel territorio, però cadendo le province bisogna vedere come muoverci. Dunque noi all'interno del centro-destra ancora dobbiamo fare una riunione per dare una sintesi di tutte le sensibilità, però aspettiamo e siamo in grande ritardo che ufficialmente sulla commissione competente si inizi a lavorare per questo. Goracci, lei che prevede? Che legge verrà fuori? Secondo me è una legge molto maggioritaria, spinta evidentemente anche dalle scelte nazionali, ma assolutamente inadeguata ad una realtà come l'Umbria. Il centro-destra sarà sostanzialmente abbastanza d'accordo, perché con simpatia e rispetto, e anche parzialmente affetto al collega Monni, le scelte che, non solo quella sulla semplificazione, ma se io penso a due o tre argomenti delicati per questa regione, penso la grande infrastruttura della E45, penso bruciare i rifiuti, la produzione del CSS, magari l'utilizzo dei cementifici o delle situazioni già esistenti, siete perfettamente d'accordo? Come siete d'accordo sulla riforma, una delle più importanti che si sta facendo, che ha spunti anche positivi sulla ricomposizione della legge che riguarda la pianificazione del territorio. Questo lo dico perché da Renzi a scendere giù non ci sono grandi differenze, poi Renzi al Fano, il governo, ma dico con il centro-destra complessivamente, anche sulla legge elettorale, alla fine si faranno due conticini, perché io non concordo con lui, sul fatto che chi sta in alleanza, il partito piccolo che sta in alleanza, gli può bastare il 3%, butto la numeri a caso per capirci. Quello che invece vada solo in posizione alternativa di diversità deve arrivare all'otto, ergo non ci arriverà mai. Non è serio. O si dice che tanto stiamo andando verso una tendenza che è assolutamente maggioritaria, che ce n'è una e ce n'è l'altra, guadagnano e comandano sempre quelli, senza grandi diversità, perché il renzismo e il berlusconismo, dal mio punto di vista, sono dei percorsi molto ravvicinati, o comunque non hanno delle distanze siderali, o se no si dovrebbe scegliere come minimo un sistema proporzionale pressoché puro, con un minimo premio di maggioranza a chi vince di consentirgli di avere due o tre consiglieri in più sui venti, perché altrimenti non c'è più quella possibilità che è stata nella storia di questa regione per minoranze culturali, politiche e territoriali, e sarà una lotta molto dura anche all'interno dei singoli partiti, perché per esempio il centrodestra si è già diviso in due o tre, io sto parlando di chi non esiste più a partire da me e non sarò nemmeno in gioco, quindi la prossima primavera o altro a cui pensare, ma credo che anche dentro il Partito Democratico, che ha fagocitato tutti, adesso si imbarca anche una parte di Selle, però portare a sintesi le tante posizioni che ci sono o i tanti interessi, penso per esempio a quelli territoriali, perché le vicende delle ultime elezioni non hanno segnato solo Perugia in maniera assolutamente eclatante, io vengo da Gubbio, dove ha vinto il candidato dissidente del PD, quell'ufficiale ha preso il 25%, e in sostanza il PD a Gubbio è dal 2001 che non governa più, esclusi due anni drammatici di Guerlini, quindi credo che sarebbe serio pensare a ipotesi che i costituzionalisti avevano pensato, dopodiché così non andrà e cercheremo di attrezzarci. Allora, Goracci mi ha portato anche l'ultima domanda, lui ha già risposto perché è entrato nell'argomento quello del risultato delle ultime elezioni amministrative, abbiamo parlato di Perugia per il centro-destra, ma c'è anche Spoleto, che è tra i comuni più grandi, poi chiaramente ci sono anche gli altri, diciamo in seconda fascia, a livello di numeri di abitanti, non per importanza. Sì, però, per quanto riguarda la provincia di Perugia, naturalmente, c'è un filo di una linea mezzaria della provincia di Perugia che parte da Norcia, passa attraverso Spoleto, Nocera, Montefalco, Bastia, Torgiano, Perugia, Collazione, Deruta, dunque, per noi è molto importante anche i comuni di secondo livello, ora, vincere a Norcia vuol dire vincere su una roccaforte di uno dei leader del Partito Democratico di Perugia, vincere a Spoleto e poi vincere, io voglio dire, sono anche molto soddisfatto in modo particolare perché a Spoleto ha vinto un candidato, sì, di centro-destra, ma appoggiato dal nuovo centro-destra nella lista civica, ricordo agli amici telespettatori che Forza Italia, Fratelli d'Italia, appoggiavano un altro candidato, dunque lì c'ho una soddisfazione maggiore non perché erano fuori dalla coalizione, però perché abbiamo fatto una scelta lungimirante dal punto di vista del risultato, ecco, vincere su questi comuni significa che poi la gente inizia non più a votare con in mano come dire, le ideologie, ma anche basando sulla serietà delle persone, ecco, questo per noi ci dà una grande soddisfazione, abbiamo riconfermato Bastia, abbiamo riconfermato al primo turno Montefalco, cioè il risultato così come Collazione, così come Torgiano, dunque il risultato per noi è soddisfacente, abbiamo anche fatto un ottimo risultato a Foligno e dunque noi siamo soddisfatti in un momento dove devo ammettere che il centro-destra è in difficoltà, perché questo su questo sarebbe una follia non riconoscere questo momento difficile. Allora, abbiamo un minuto, proviamo a guardare attraverso la sfera di Cristallo quello che sarà il futuro politico di questo Paese e oggi chiaramente c'è questa coalizione di governo tra nuovo centro-destra e il centro-sinistra e sono chiari tutti e due gli schieramenti nel dire è una questione provvisoria dovuta al periodo ma poi chiaramente verrà di nuovo divisa la strada di questi politici di questi uomini e queste donne. Come sarà secondo lei Goracci che conosce la politica da tanti anni il futuro di questo Paese non dal punto di vista governativo ma proprio dal punto di vista politico ci saranno questi tre blocchi che sono centro-destra e centro-sinistra e grillo oppure cambierà qualcosa davvero a titolo perché poi temo che rimarranno due blocchi e mezzo con Corvenzi che sta egemonizzando tutto a meno che non fa gaffe tremende e non lo scaricano alcuni dei potentati economici italiani e internazionali io spero che l'esperienza minimale molto minimale di Tsipras per le europee possa essere il segno anche della ricostruzione di una sinistra che stia a sinistra del PD e che segni idealità progetti percorsi alternativi perfetto Monni vede un centro-destra unito nel futuro sì sicuramente il centro-destra unito ora questa esperienza che il nuovo centro-destra fa al governo è in senso di responsabilità sapendo anche che la nostra posizione ci penalizza dal punto di vista elettorale perché stare al governo con una figura come Renzi che adesso è come dire il punto di riferimento dei media ci crea grossi problemi è però un senso di responsabilità noi sappiamo e tutti sanno che questo è un momento che il paese sta passando e sta attraversando di grosse difficoltà e dunque diamo un contributo per cercare di salvare il paese dopodiché il centro-destra tornerà unito noi alle prossime elezioni regionali saremo tutti uniti penso che si possa anche essere qualcosa di interessante in Umbria come laboratorio politico all'interno del centro-destra grazie per essere stati con noi in questa puntata ad Orfeo Goracci consigliere regionale comunista Umbro e a Massimo Monni del nuovo centro-destra grazie appuntamento alla prossima settimana e grazie per averci seguito grazie per averci seguito